È stato un episodio assurdo, eravamo a Villa Vicenzo in un piccolo ristorante, cioè proprio piccolissimo, ed è venuta questa signora vicino a me, a questo mio amico che viaggiava con me, che in un spagnolo completamente stretto, che non ti saprei neanche ripetere, ci dice esattamente quello che era il menù del giorno. E io, non si sa come, ho capito tutto. Ah, come fosse una cosa che venisse da un'altra dimensione. Cioè, è scattata una cosa, ho detto, oddio, cioè, com'è possibile? E da lì ho cominciato a riprendere, a cercare di parlare di nuovo spagnolo, proprio a cercare anche di praticarlo qualche volta, e c'è stato di nuovo una riscoperta di me stessa, e adesso sono molto fiera anche di essere colombiana, perché penso che sia bello essere, penso di essere una cittadina del mondo, più che altro. E benvenuti alla puntata 407 della Dublino, siamo qua a un nuovo studio, nuova puntata e nuova stagione, e sono cambiate molte cose, sono cambiate molte cose perché, dopo una piccola pausa, abbiamo deciso di fare un'inversione, e quindi non sarà più un programma generale di infotainment, ma sarà più simile a un video podcast. Infatti, chi ci guarda adesso da YouTube probabilmente vedrà che siamo in uno studio, studio 2 di WSF FM, infatti la Dublino continua in FM, on air, sono da 3.7, è da Dublino, la puntata sarà ascoltabile ogni mercoledì e giovedì, dalle 3 alle 4, ma siamo anche su YouTube, su Facebook o di YouTube, in cui potete trovarci ogni mese con una puntata in cui ci sarà un ospite particolare, in cui affronteremo un tema specifico ogni volta. Questa volta parleremo di attivismo e di altro, perché volete sapere di più dell'evoluzione che vuole a Red Dublino, trovate informazioni sul nostro portale reddubino.com o anche su tutte le piattaforme streaming in cui andrò in onda a questa nuova stagione, da Spotify a Deezer a Apple Podcast. E ora torniamo e cominciamo subito con la puntata, con il primo ospite della prima puntata della 11 stagione di Red Dublino. Questa è la puntata 1, di solito quando uno inizia una stagione nuova con un nuovo formato si fa una puntata 0 di prova, in realtà oggi partiamo subito senza nessun palacaduto, senza nessuna salvezza, quindi sono molto grato all'ospite di oggi che è Ligia Pagano, la fondatrice di La Mansarda. Salve! Grazie, salve, grazie, è benvenuta a Red Dublino, Ligia. Grazie per questo invito. No, no, infatti tu sei un po' la nostra cavia, perché è un nuovo formato, di solito noi andiamo sempre in onda, solo per dieci anni, solo in audio, il video non c'è mai stato, abbiamo fatto delle riprese però ecco, con gli ospiti quando suonavo dal vivo, però siamo un po' sempre nascosti dietro un microfono, quindi oggi vedremo anche, sporremo anche le nostre facce. Come stai? Io bene, ma non nego che ero un po' ansiosa per questa, per tutto questo, però adesso sto bene. Ti abbiamo un po' allestito e velocemente qua in Studio 2 c'è anche il nostro logo, le nostre tazze, le nostre famose maggera di Dublino, non ho messo il whisky, potete mettere il whisky magari. Avrei dovuto dire di sì quando me l'hai proposto, perché avrebbe decisamente ucciso un po' l'ansia, però va bene. Forse non il mirto, perché il mirto impasta un po' la bocca, l'ho provato, non funziona tantissimo, però ci proverò col prossimo ospite. Va bene. Come va? Cosa hai fatto oggi? Oggi ho fatto il video per l'evento di promozione del 23, ero con un videomaker che si chiama Lobo, molto bravo, per cui mi sento che è stata tutta una giornata sotto i riflettori, sotto le telecamere. Però è stato molto divertente, è una cosa che non ho mai fatto, insomma come questo. Un po' challenging, ma quest'anno penso che sia tipo l'anno del challenging, tante cose che per la prima volta si faranno, per cui contenta. Tu fai tantissime cose, tra poco parleremo della Mansarda, è un progetto che io ho colpevolmente scoperto molto tardi, che tu fai da qualche anno qua a Dublino, lo facevi prima anche nel Regno Unito, però prima di arrivarci, partiamo da te. Partiamo da te. E poi vediamo come sei arrivata a fare la Mansarda, che fa delle cose bellissime, tra cui una fetta di tre missus a tutti, che è una cosa che mi piace da pazzi. Dove sei nata? Allora, io sono nata in Colombia. Ma sei italiana? Sono italiana, adottata da genitori italiani, quando avevo quattro anni e mezzo. Mamma e papà diciamo che hanno fatto una cosa che forse non tanti fanno, hanno adottato due coppie, di colombiani e russi, e io sono una delle coppie. Cresciuta in Italia, ho perso un po' lo spagnolo col tempo, anche se qualche reminiscenza è rimasta, perché dicono che comunque quando sei piccolino, l'impronta della lingua resta comunque da qualche parte in un tuo cervellino. Cresciuta a Napoli, in provincia di Napoli, in un paesino tra San Giuseppe Vesuviano, terzigno, t'ho rannunziata, diciamo che anche a casa ci siamo spostati parecchio. Il trampolino è stata, ero abbastanza, non ero molto propensa ad allontanarmi da casa, devo dire la verità. Quando ho fatto gli studi sarei voluta restare a Napoli, per seguire un po' più da vicino anche i miei amici. e mio padre, grande spinta, ha voluto che facessi l'università fuori casa, letteralmente fuori casa, e quindi ho fatto gli studi a Ferrara. Ah, bello. Sono stata lì per quattro anni, perché ho perso un anno all'università, purtroppo, per fortuna, non lo so, però ho perso un anno, e da lì, diciamo che non sono più voluta tornare a casa. È stata la mia prima esperienza di vita da sola, fuori casa, lontano da quelle che erano le sicurezze, quali gli amici, mamma e papà, casa, cucina, chi ti fa la lavatrice, insomma cose così. Ed è stata sicuramente un'esperienza di crescita, anche perché non ero mai uscita, come ripeto, dall'ambito familiare, quindi è stata una grande, grande crescita. E da lì, una volta che ho finito l'università, diciamo che mi sono trovata un po' persa, perché non sapevo esattamente cosa fare. Tu hai studiato all'università di Ferrara? Io ho studiato infermieristica all'università di Ferrara, nella sede di Codigoro, perché sono tre sedi, Ferrara, Pieve di Cento e Codigoro, io ero a Codigoro, e sono entrata in contatto con molte persone che erano Erasmus, sono entrata in contatto con persone che cominciavano a parlare inglese con me, il mio inglese era pessimo, cioè veramente, proprio pessimo, per approfondimenti e storie divertenti chiedete ai miei amici. E poi, finita l'università, ero abbastanza persa, volevo andare all'estero, dopo aver conosciuto tante persone che venivano fuori dall'Italia, volevo fare un'esperienza significativa fuori, per cui ho deciso di partire per l'Australia, sebbene mia madre non fosse molto d'accordo. E quant'anni avevi quando sei partita? Avevo 24 anni, 23, poi 24 l'ho fatta, molto giovane comunque. Sì, molto giovane, molto lontana da casa, ripeto, il mio inglese non esisteva, e in Australia ho imparato l'inglese, ho fatto un anno tra au pair, farm, viaggi, in camper, e poi di nuovo è lo smarrimento del oddio, non voglio tornare in Italia, per fortuna tra una cosa e l'altra c'è Alma Laura che praticamente è una piattaforma dove tu ti registri quando hai terminato il ciclo degli studi e Alma Laura sulla base del tuo tipo di laurea ti dà le indicazioni o comunque ti dice guarda ci sono queste agenzie che magari cercano nel tuo settore e Alma Laura mi aveva mandato un'email appunto che in Inghilterra cercavano infermieri e tu eri diplomata però non l'avevi mai esercitato non l'avevo mai esercitato no perché un po' c'avevo l'ansia di dover entrare subito nel mondo del lavoro e chiunque sentivo almeno come infermiere dicevano tutti che dopo un po' è pesante i turni qua e là quindi non è che non è che proprio era una grande spinta ma perché studiato infermeria se non eri così convinta e ti dirò la verità all'inizio non ero molto propensa a fare infermieristica avrei voluto fare l'Accademia delle Belle Arti però allo stesso tempo i miei genitori mi hanno indicato che questo sarebbe stato un percorso di studi breve mi avrebbe assicurato il posto sicuro mi avrebbe assicurato sicuramente un lavoro sotto ogni prospettiva e poi non si sa come sono uscita a passare i test e ho detto vabbè facciamo un'infermiera però anche durante i tirocini sebbene mi piacessero mi piacesse fare il tirocino tutti gli infermieri con i quali con i quali parlavo diciamo che non erano proprio soddisfatti al 100% della loro vita per cui non c'era questa grande spinta a voler entrare subito nel mondo del lavoro o almeno in Italia chiunque sentivo il salario le ore insomma così per cui dopo l'Australia ho detto vabbè in Italia no ovunque parte l'Italia e quindi sono sbarcata in un paesino vicino Londra e sono stata lì per un po' anche per adattarmi con l'accento inglese comunque ma tu riuscivi a parlare e capire l'Australiano perché io dopo un anno sì dopo un anno sì però non nego ci vuole un anno e considera che comunque appena sono arrivata il mio inglese ripeto non c'era per cui magari avevo le persone che mi parlavano intorno non capivo però ridevo e facevo finta di capire e dopo un anno diciamo che l'accento australiano è molto diverso da quello inglese quindi poi capivo più l'accento australiano che l'accento inglese e quindi quando poi mi sono trasferita in Inghilterra è stato di nuovo un riadattarsi ad un accento diverso e quello in arlandese penso sia più simile a quello australiano forse no è ancora ancora peggio cioè sì non saprei dire chi è peggio chi è meglio però posso assicurarti che sono tutte e tre completamente diversi ok sono rimasto a darlo per un po' ho creato un po' di amicizie e poi da lì mi sono trasferita a Londra un grande ospedale sono rimasta lì per quasi quattro anni e mezzo che anni erano? quanti anni fa? oddio quattro anni fa quindi avevo tra i 27 28 anni ma non vuole che artilettano si chiede signore no effettivamente sto cominciando a perdere il numero e niente sono rimasta in Inghilterra a Londra per un po' mi piaceva ma non mi piaceva cioè Londra bellissima però può essere abbastanza come si dice in italiano overwhelming complicata gestire troppo carica troppo carica troppo carica diciamo che dopo quattro anni e mezzo la sentivo un po' troppo pesante ripeto bellissima però forse da giovane è più bella ma poi la città è complicata ci ho vissuto poco anche io ho sentito questa pesantezza del commuting del cube che è bellissimo però passarci le giornate poi se fai l'infermiera che è un lavoro pesante comunque gestire un lavoro non sa quello forse non mi dispiaceva alla fine fare l'infermiera mi piace non penso che sia una delle poche cose che posso fare perché mi piace però proprio la tube poi c'erano troppe persone ogni volta che andavi da qualche parte ogni volta che attraversavi una strada non lo so a una certa ho detto vabbè forse dovrei andare in un posto più tranquillo poi tra una cosa e un'altra ho conosciuto un tipo mi sono innamorata l'amore arriva l'amore l'amore non so se ma non è l'overworld che è trovato un irlandese ho trovato un irlandese no c'era già un'idea di andare via non sapevo esattamente dove però l'idea c'era un po' più piccolo più umano più piccolino poi ho conosciuto questo ragazzo mi sono innamorata per la prima volta letteralmente e dopo dopo un anno di long distance di relazioni a lunga distanza e ho deciso di trasferirmi a Dublino quindi poi di nuovo un riadattarsi un riambientarsi poi c'è stato è successo proprio nel periodo del covid cioè un anno dopo c'è stato il covid quindi diciamo che è stato un po' intenso ma quando ero in covid tu eri già qua? io ero già qua io ero già qua ed ero in terapia intensiva per cui è stato abbastanza intenso si chiuderebbe una cosa un'esperienza complicata perché comunque l'Irlanda poi magari ne parliamo forse non era attrezzata ma io penso che nessun paese fosse veramente attrezzato per la pandemia forse l'Irlanda in particolare secondo te rispetto al Regno Unito tu hai visto queste differenze a livello lavorativo a livello lavorativo sì sicuramente penso che il sistema inglese per certi aspetti sia un po' più avanti del sistema irlandese però in termini proprio di preparazione a fornire all'osatto numero di cittadini che avevano bisogno di assistenza medica penso che sia Dublino come Londra come Napoli come Bologna penso che tutti abbiano sofferto parecchio perché non ci si aspettava una così grande domanda e il problema dei posti letto purtroppo è un problema che esiste dovunque e per cui penso che un po' tutto il mondo abbia sofferto della mancanza di risorse sanitarie per poter compensare la domanda del covid che comunque ti chiedo perché quando in dieci anni abbiamo trovato tantissimi italiani qua a Dublino una delle maggiori preoccupazioni che hanno gli italiani che vengono qua in Irlanda è il sistema sanitario oh my god se poi si riscrive all'Aira per il sistema sanitario italiano qua è una giungla ho paura di stare male qua in Irlanda perché ci sono delle problematiche tu confermi oppure c'è un panico eccessivo sul sistema locale no penso che le preoccupazioni siano meritevoli cioè giuste scusa motivate effettivamente il sistema sanitario qui è al 50% privato e al 50% pubblico purtroppo l'investimento nel sistema privato c'è e questo toglie risorse al sistema pubblico il paradosso nel quale io a volte veramente nonostante ci lavori dentro ancora non riesco completamente a capire è che se tu stai male e entri in un ospedale tramite entri in un ospedale privato e continui a deteriorare nel tuo quadro clinico e quell'ospedale privato non ha le risorse proprio le risorse sanitarie per curarti quindi vieni trasferito in un ospedale pubblico utilizzando poi le risorse pubbliche e questa cosa io poi mi chiedo allora perché sono andata nell'ospedale privato e lavoro in terapia intensiva in un ospedale pubblico ho lavorato per meno di un anno in un ospedale privato mi sembrava assurdo perché l'ospedale privato funzionava quasi come albergo e noi portavamo i pazienti nell'ospedale pubblico facevano quello che dovevano fare poi ce li riportavamo nell'ospedale privato e si andava avanti così adesso che lavoro nella terapia intensiva di questo ospedale pubblico ogni tanto ci arrivano pazienti dall'ospedale privato li li curiamo tra virgolette e comunque li rimettiamo un po' in sesso cioè non è che sono proprio curati al 100% li rimettiamo un po' in sesso e poi ritornano di là e questo anche adesso che ci lavoro mi sembra comunque una cosa boh non ne capisco tanto il senso però funziona così e molti degli irlandesi hanno l'assicurazione privata proprio perché appunto non non si fidano tanto del sistema pubblico però poi mi dico vabbè ma se tu puoi stare tanto male comunque vieni nel sistema pubblico per cui non c'è una domanda personale perché io sono interessato io sono passato recentemente da un lavoro o l'altro prima mi pagava l'azienda la situazione sanitaria totalmente c'era anche il top della gamma avevo detto a tutto praticamente dai denti ad altro ora sono andata in un'azienda che non lo prevede nel mio contratto e io me la sto pagando privata e io mi chiedo mi chiedo anche mia moglie in realtà ha senso pagarsi la situazione privata che fondamentalmente ti permette di andare in istrutture private in modo gratuito e non in quelle pubbliche se poi la differenza non è così tanta ha senso pagarsi la situazione privata in Irlanda oppure comunque la cura di base pubblica va bene io non ho l'assicurazione non ce l'ho però è anche vero che entrando con un'assicurazione diciamo che le liste di attesa sono definitivamente più basse perché magari se devi fare una differenza magnetica in un ospedale pubblico forse si parla anche di aspettare dai 5-6 mesi se ci vai se ci vai privatamente ovvio che magari è un mese o due e se hai non lo so se hai un quadro clinico severo capisci che forse dici vabbè io non posso aspettare i 6 mesi però purtroppo le liste di testa sono quelle è un 50-50 non saprei dire se sia una cosa giusta o sbagliata perché ho conosciuto persone che hanno l'assicurazione sanitaria privata e tramite quello hanno verocizzato un sacco le loro cure però è anche vero che ho conosciuto chi non ce l'ha e io ti posso assicurare anche se sono a mia pelle ho avuto un piccolissimo intervento e non ho l'assicurazione privata però l'ho fatto abbastanza velocemente dipende dipende un po' dipende un po' l'ideale sarebbe magari non investire così tanto nelle strutture private visto che comunque c'è ancora una grande domanda nella struttura pubblica e incentivare e migliorare la struttura pubblica perché l'ideale non si sta un po' ibrido tra Italia e America si hanno questa possibilità non è sicuramente privata come in America che là c'è il pubblico però è un po' diverso e non c'è ma sanitario come in Italia qui è una struttura sta di ibrido un po' strano invece dovete capire per gli italiani che vengono qua ci lavoro e ancora non l'ho capito quindi prima di stare bene comunque nel caso c'è l'aereo per l'Italia se avete bisogno ma il problema è sempre dell'aereo è sempre stato obbligatorio ora pare che faranno dei controlli il problema dell'aereo è che molti dicono io non voglio rinunciare a stare a sanitario italiano quindi vivo da Dublino da vent'anni però non mi iscrivo all'aereo alcuni lo fanno anche perché non pagare le tasse della casa magari propare licci credo però se passano in Italia secondo me è un problema senti tu sei arrivata qua allora come è stata l'impressione qua Dublino arrivata da Londra eri mai stata in Irlanda prima? no non ce l'ho mai stata prima la prima volta appunto sono venuta qua per questo mio ex e diciamo che è molto più casa rispetto a Londra cioè le persone ti parlano un po' di più ti rivolgono un po' più l'attenzione e c'è un sistema di solidarietà un po' più presente rispetto a quello inglese penso che sia anche normale perché a Londra c'è troppa gente quindi sarebbe diventa pure un po' quasi impossibile riuscire a fare riuscire ad essere amichevoli con tutti mentre qua è un po' più ecco come dicevamo in macchina io personalmente l'ho trovato un po' più italiano nel senso la mia vicina di casa è diventata la mia migliore amica mentre a Londra non mi è mai successo cioè sì conoscevo le facce però non è che ci invitassimo a mangiare o a fare un viaggio insieme o quello che è mentre qua diciamo che ho trovato una una community molto più familiare quindi su questo piano qua mi sono trovata parecchio bene certo è che a livello di natura e quant'altro mi sono appassionata subito perché a Londra è un po' difficile riuscire a fare hiking andare al mare farsi anche solo una passeggiata mentre qua 15 minuti da dove sto io di casa arrivo a Clontarf e sono vicino al mare praticamente quindi mi sono trovata bene non ti manca nulla di Londra è una cosa che c'è là e qua non c'è ogni tanto forse vabbè a parte gli amici perché comunque dopo anni avevo creato anche dei legami lì forse ogni tanto la la il fatto che a Londra c'è sempre qualcosa c'è uno spettacolo teatrale c'è un concerto non importa quale giorno della settimana sia trovi sempre qualcosa mentre qua diciamo che è un po' più limitato no really forse quello ogni tanto sì c'è tanto qua magari però non di grande portato ci sono i musical i concerti ecco quello forse ogni tanto non c'è la vita notturna che c'è a Londra sicuramente o a New York però c'è tanta 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 vita pure qua senti tu mi dicevi appunto tu hai studiato infermieristica Ferrara però volevi fare anche delle belle arti sì in te convivono aspetti sia come dire infermieristici ma anche artistici tu questa persona per l'arte quando è nata da piccola hai avuto interesse a me piaceva sempre colorare colorare e me la sono portata un po' questa cosa poi diciamo che ho sempre cercato di migliorare un po' le mie skills nel disegno nella pittura e durante il covid sono tipo uscita mezza pazza per l'argilla lavorare l'argilla perché penso che sia bellissimo riuscire a creare qualcosa e poi poterci disegnare sopra colorare dargli proprio una vita ok ho sempre avuto un po' il fascino per l'arte gli artisti e tutto quello che convive in questo mondo praticamente per cui sì ecco ho saputo che un infermiera durante il covid che lavorava in ICU avessi il tempo per lavorare con l'argilla sì io vi immaginavo un giorno infernale senza avere neanche il tempo per dormire no no io ho fatto dei vasi ho fatto dei piatti disegnati ho fatto tanta roba cioè non era solo stress quando era pandemia qua a Doblino l'ho cercato l'ho cercato e ne avevo fortemente bisogno altrimenti penso che sarei andata completamente in burnout penso che non ci sarebbe stata la ligia di oggi l'ho cercato e per fortuna la casa dove vivevo con il mio ex avevo uno spazio proprio che era diventato tipo il mio studio dove potevo dipingere fare le mie cose con l'argilla potevo dar sfogo a quella parte che aveva bisogno di uscire da questa parte clinica che ogni tanto come dicevi tu è un po' pesante e sebbene quel tempo sia riuscito a creare una sorta di barriera nel non entrare troppo un'empatia con i pazienti insomma con la situazione clinica che mi è davanti a volte questo lo dicevo proprio l'altro ieri ad una mia amica questo muro casca e quando casca io devo esprimermi in qualche modo anche se no come l'arteterapia che uno c'ha il blocco deve trarre fuori come forse regurgitare un blocco che c'ha e se no dentro impazzisci la maggior sfida è per chi fa il tuo lavoro cercare di non impazzizzare troppo bisogna impazzizzare ma non troppo perché se no se vivi tutti i drammi tutti quelli che incontri non sopravvivi bisogna avere una corazza anche perché ognuno di noi c'è poi i propri drammi ogni ora c'è poi la propria vita i propri drammi poi ti metti pure quei drammi degli altri usci un attimo e dici chi sono come rispettare professionale esatto empatica ma non diciamo che il mondo dell'arte è una mia salvezza è sempre stata una mia salvezza e continua ad essere tuttora una mia salvezza io ti ho invitato perché appunto tu sei un'attrice della mansarda ma tu in realtà questo progetto l'hai portato qua a Dublino non è nato a Dublino no è nato a Dublino è nato a Dublino facevi qualcosa a Londra a Londra non facevo niente mi davo semplicemente forse di tanto in tanto disegnavo questa cosa me la sono sempre portata però a livello proprio di organizzazione e di comunità artistica non non ho non ho fatto tanto andavo ai concerti questo sì cercavo modi in cui potevo esprimermi però non avevo mai pensato di poter creare un punto di ritrovo per gli artisti ecco definiamo un po' la mansarda perché dimmi come è nata e cos'è è un progetto una comunità un'idea un'associazione un movimento come lo definiresti carta d'identità carta d'identità proprio per questo motivo ho messo giù un manifesto della mansarda allora partendo dalle basi la mansarda è nata nel 2022 e dopo la rottuna con il mio ex diciamo che era entrata proprio in uno stato in cui non mi andava di fare niente quasi depressivo possiamo definirlo il mio miglior amico da Londra Giancarlo venne a trovarmi ciao Giancarlo ciao Giancarlo sono bravo si ci ascolta sicuramente venne a trovarmi e eravamo proprio alla fine si stava uscendo un po' dal covid quindi ci troviamo in un pub parlando poi con dei ragazzi che erano seduti vicino a noi uscì fuori che questi due ragazzi erano dei musicisti però a causa del covid non avevano fatto niente per cui erano proprio alla ricerca di posti dove potevano suonare ok e la battuta cadde proprio perché non andate a suonare al warming party della casa di Ligia perché io poi prima vivevo con il mio ex poi mi sono dovuta spostare quindi adesso vivo da sola e qui almeno nella cultura anglosassone c'è questa cosa che tu fai il party di benvenuto della casa e quindi Giancarlo perché non andate a suonare e io lì per lì molto passivamente perché ripeto ero abbastanza passiva in quel periodo e dissi vabbè venite cioè nel senso vennero mi piacque molto la situazione del loro che suonavano all'interno di questo piccolo appartamento quindi un piccolo concertino e dissi potrei farlo regolarmente potrei chiedere effettivamente a qualcuno di venire a suonare e portare un po' di persone e sentire e farli ascoltare questa musica e poi altre persone mi dissero ma perché non cerchi un avenue in realtà di farlo a casa tua perché magari così potresti avere altre persone completamente esterne dalla tua conoscenza e da lì ho detto ok chiamerò questa cosa la mansarda e il nome vuole dare proprio l'idea di un attico dove tutto è possibile nell'attico non ci sono regole su che cosa puoi portare chi ci può stare chi non ci può stare a cosa serve a cosa non serve l'attico è un mondo a parte che ognuno personalizza poi a seconda dei suoi gusti giusto quindi da lì ho chiamato la mansarda ho cominciato a creare proprio questi eventi all'interno di librerie volevo uscire un po' dall'ottica dei pub perché non mi piaceva tanto il fatto che le persone venissero e si ubriacassero e poi avevo lavorato per un paio di anni come parte media diciamo per People in Cooperation che è una NGO praticamente che è base a Lice e crea progetti e missioni per il Perù specificatamente per Cimbote e le aree intorno mi piaceva perché mi piacevano le loro missioni e mi piaceva il fatto che potevo sopportare gli artisti ho detto vabbè potrei unire le due cose e nell'unire potrei magari aiutare a ritrovare un po' questo spirito artistico che non è soltanto il facciamo Valdoria divertiamoci che figata è anche un momento di ritrovo e di solidarietà dare un senso all'arte esatto da lì ho iniziato prima con People in Cooperation ho fatto tutto un anno creando appunto eventi portando artisti con l'obiettivo di creare attenzione su quelle che erano le tematiche di People in Cooperation ed è andata bene mi è piaciuto tanto perché comunque vengo da queste sono nata in questi paesini dove non c'era niente comunque sono nata in Colombia in un in un in un paese dove la povertà fa da madre a tutti ora forse è bene la Colombia stia un po' riprendendo sui ultimi anni sì io sono nata a Villa Vicenzo che è un paesino vicino quattro ore da Bogotà e ci sono stata prima di spostarmi a Dublino ci sono proprio l'ho visto con i miei occhi poi sei tornata quindi c'è ancora sono tornata e ti posso assicurare che l'idea di povertà che avevo io non è non era abbastanza chiara cioè mi è stata presentata chiaramente nel momento in cui sono andata lì e poi da lì cioè sono passata per la Bolivia e anche lì la Paz ci sono molte realtà povere e penso che averle viste con i miei occhi mi ha fatto ancora di più apprezzare il fatto che progetti come People in Cooperation che vanno e aiutano queste realtà sono necessarie e vanno pertanto supportate quindi hai scelto questa ONG non so si è un NGO si può dire in tanti modi anche perché lavoravano in Sud America lavoravano in Sud America sì c'è stata una prima connessione era proprio perché lavoravano in Sud America e l'avevo visto con i miei occhi perché sono andata a Cimbote ho fatto il giro degli infermieri con il mio amico collega perché abbiamo fatto l'università insieme e adesso lui lavora lì e quindi ho visto proprio come c'era proprio l'infermiere che si andava a casa e ti posso assicurare che le case erano proprio catapecchie situazioni abbastanza importanti ma tu sei italiana però appunto tu come vivi questo il tuo rapporto con la Colomia con la Sud America quando sei tornata là sentivi insomma c'era un legame anche se poi tu sei cresciuto in Italia hai il passaporto italiano eccetera come che vivevi perché noi siamo una radio italiana in Irlanda quindi l'identità la comunicazione tra le identità è importante come tema per noi e tu come l'hai vissuto questo tuo viaggio là un po' hai sentito affinità o distanza con i locali no lì per lì ti posso assicurare che prima per me la Colomia non significava niente io anzi penso di aver passato la maggior parte della mia vita a riniegare proprio di essere colombiana dicevo no io sono italiana appunto poi c'è stata questa riscoperta spinta anche dalla curiosità diciamo della musica tipo cantanti come Shakira che è colombiana c'è stata questa curiosità proprio ad avvicinarsi alla cultura sudamericana che comunque vuoi non vuoi fa parte di me e c'è stata questa mia ricerca nel capire chi fossi la ricerca poi ha portato a cercare di scoprire i genitori biologici scoprire l'hai trovato? ho trovato la donna che mi ha fatto io ok l'ho trovata l'ho trovata è una recente complicata di farla sì e i miei sono stati molto di supporto mamma e papà sono stati molto di supporto quando gli ho detto che avevo interesse di capire chi fossi ricontattare il servizio delle adozioni che mi aveva indirizzata verso di loro riavere tutta la documentazione è stato un percorso che ho fatto lentamente e in quel frangente ho cominciato a riapprezzare ad iniziare ad apprezzare il fatto che fossi anche colombiana poi nel momento in cui sono andata lì c'è stato un episodio assurdo eravamo a Villa Vicencio in un piccolo ristorante cioè proprio piccolissimo ed è venuta questa signora vicino a me a questo mio amico che viaggiava con me che in un spagnolo completamente stretto che non ti saprei neanche ripetere ci dice esattamente quello che era il menù del giorno e io non si sa come ho capito tutto ah come fosse una cosa che venisse da un'altra dimensione cioè è scattata una cosa ho detto oddio cioè come è possibile e da lì ho cominciato a riprendere a cercare di parlare di nuovo spagnolo proprio a cercare anche di praticarlo qualche volta e c'è stato di nuovo una riscoperta di me stessa e adesso sono molto fiera anche di essere colombiana perché penso che sia bello essere penso di essere una cittadina del mondo più che altro perché un pezzo di cuore è lì è un pezzo di cuore in Italia e poi un pezzo di cuore è in ogni città nella quale mi sono spostata perché poi paradossalmente mi sono spostata parecchio sei ancora giovane quindi hai tempo ancora per girare quindi adesso la vivo molto più serenamente e lo dico anche sono colombiana però prima ti posso assicurare che era proprio un rinnegare rimosso ma ci stavo capisco sì ora ti presenti come colombiana colombiana e italiana sì mi presento in entrambi i modi nice to meet you where you from tu dici italiana but born in colombia è bello sì specifico sempre è una figata io sono sardo sai che ho fatto quei test del DNA sono 80% sardo che è una cosa super banale e boring vabbè però è comunque un mix è un mix ho 60-70% sardo poi c'è il 20% italiano c'è gente che ha che ha infiltrazioni da Gengis Khan ai Maori ai Berberi vorrei fare questo tipo di test tu sarai stato interessante lo vorrei fare ma ancora non ho mai fatto ma esce dei tuoi geni non lo so non lo so è una ricchezza mischiare contaminare sì anche perché al lavoro pensano sempre che sia filippina al lavoro mi pensano ma sei filippina no se proprio sono colombiana però vabbè ma lavoro bravo perché io sono andato in ospedale per piccola cosa per fortuna tempo fa e ho visto ogni volta c'era un infermiere diversa un dottore diverso erano tutti diversi nazionalità ma è ancora così è molto multiculturale la minoranza è irlandese secondo me sono irlandesi che sono italiani africani chinesi spagnoli ma è così un po' dovunque perché pure quando ho lavorato a Londra ti posso assicurare che gli infermieri proprio inglesi li potevi contare con una sola mano ma il resto erano tutti tra Spagna Portogallo Germania Italia Filippini cioè dovunque letteralmente ma tu all'estero come italiana italiana colombiana sorry come colombiana italiana non so cosa metti per primo tendi a fare il trilanghetto quando sei lavoro tra le amicizie oppure sei più aperta che sai molti vanno all'estero stanno i messicani con i messicani i brasiliani con i brasiliani tu eviti o sei flexi sono molto flexi tipologie di quelli che vivono come la morte e quelli che non possono parlare perché manca il B-Day in Irlanda no no sono a quei livelli penso che l'esperienza in Australia mi ha aperto pericchio perché non ero vicino ad una comunità italiana anzi completamente opposta cioè molto australiana e francese per cui mi sono aperta molto allo stare con gli altri contenta del fatto che non fossero italiani perché se no non avrei imparato bene la lingua la facevi goofing in Australia perché facevi lavorare in farms perché so che in Australia è complicato il pass il visto ti posso dire che l'ho avuto abbastanza facilmente forse perché eri giovane non so probabilmente sì avevo comunque 24 anni dopo i 30 sì devi avere tipo uno sponsorship per averlo però il working holiday visa lo puoi chiedere solo prima dei 30 dopo devi fare devi fare un minimo di 88 giorni quando hai il working holiday visa se vuoi richiedere un altro working holiday visa perché te ne viene concesso solo uno e basta ok questo non è più ok almeno che non fai gli 88 giorni allora ti tiene e te ne danno un altro cosa che io avevo fatto pensando appunto di ritornare però poi non sono più tornata pensi di tornareci più no vorrei tornarci più che sì più per una questione di vacanza però non per starci un anno bellissima Australia ma troppo lontana cioè a me mi dia la storia non so come è stato vorrei andarci però per prima il fatto che non potrò mai visitarla tutta perché poi in mezzo al vuoto c'è il deserto però è figo il deserto però ci vuole tanto non puoi farlo una settimana non puoi prendere tantissime ferie non puoi stare là una settimana ci vuoi due giorni a arrivare è grande quanto l'Europa ci vuole tanto tempo quindi andare là una settimana a Sydney non credo che abbia senso no no minimo un mese almeno per farsi un'area per farsi un'idea manca un po' questo mese di holidays prima o poi arriveranno spero prima della pensione insomma oddio speriamo comunque la storia da lì non si è sposta sì però cambia tante cose è quello prima sono sempre meno ospitali senti torniamo un po' alla mansarda la mansarda i irlandesi quando dici mansarda cosa capiscono sanno cos'è la mansarda? no li per lì dicono ma cosa vuol dire? hanno qualche misato standing penso no no li per lì dicono cosa vuol dire poi gli spieghi un attimo l'attico e allora abbracciano la filosofia poi ovviamente c'è sempre un po' di si perdono un attimo perché poi la mansarda c'ha il simbolo del limone quindi poi dicono ma la mansarda significa il limone? no perché sono tre cose un po' diverse perché c'è il limone? perché il limone è una cosa che ho scelto sono molto contenta praticamente il limone prima veniva utilizzato come medicinale per le cure durante il periodo dei romani veniva molto utilizzato soprattutto come antidoto per i veleni se si stava male e tuttora oggi se tu stai male comunque fai basta il limone te con il limone se c'è un po' di raffreddore comunque il limone è rimasto come elemento curativo e l'idea era che la mansarda vuole attraverso i suoi eventi curare tra virgolette ovviamente lo spirito della persona riportarti sull'essere un po' umano e riscoprire anche te stesso nel tuo essere completamente busy durante la tua vita tu vieni in questo evento tre ore tre ore due ore insomma quello che è e ti riposi curi la tua anima praticamente per quello che è una sorta di parallelismo del limone per cui ti riposi forse da infermiera pure cerchi la cura del corpo anche dell'anima cerchi la cura del corpo e dell'anima vuoi salvare le persone in vari modi senti ma come funziona un po' tu hai fatto tanti eventi noi qua della Dubin un evento unico all'anno e basta purtroppo ci sono degli spin off come abbiamo fatto da poco di corte nella salda corte è sempre parte di un unico evento tu fai tanti eventi durante l'anno e c'è tanta roba dentro non è solo musica non è solo lettura come scegli i contenuti come gli abini c'è un criterio come 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 una mansarda un incontro tipo della mansarda perché non c'è mai stato come lo descriveresti cosa si aspetta queste due tre ore allora prima di tutto degli artisti un contesto molto multidisciplinare l'obiettivo è supportare gli artisti ma a 360 gradi non un determinato tipo di artisti anche perché penso che i musicisti abbiano molte piattaforme dove potersi esprimere mentre magari per poeti fashion designer visual artist diventa sempre un po' più complicato e bisogna sempre trovare dei setting specifici quindi l'obiettivo della mansarda è riuscire ad offrire uno stesso setting a diversi tipi di artisti quindi l'idea di ogni evento è riuscire ad avere un rappresentante per ogni tipo di arte motivo per il quale un evento di solito conta quattro artisti quattro o tre tra musicisti comedian poeti fashion designer che abbiamo avuto l'anno scorso o visual artist o dancer ballerini ballerini poi di qualunque tipo cioè dallo swing al latino americano perché poi anche il ballo c'ha una un grande mondo dietro e quindi nel momento in cui si viene a un evento comunque è un evento multidisciplinare poi l'idea è di connettersi con la comunità del posto quindi uno dei motivi per cui la manzarda non ha una casa ma rimane rimane anche un'ideologia un luogo dell'immaginario un luogo immaginario perché ogni evento viene creato in luoghi molto vicini alla comunità quindi per essere vicini alla comunità bisogna sapersi spostare motivo per il quale la manzarda continua a spostarsi all'interno di Dublino sono state a Dublin Dublin 7 Dublin 1 in realtà che sono pro progetto nel senso rispecchiano un po' i valori di solidarietà empatia apertura mentale quali librerie record studio caffè i caffè sono un punto di ritrovo per la comunità pazzesco e sotto questa prospettiva allargare anche la comunità al fatto che comunque è una comunità europea non è infatti vi ho chiesto un po' come trovi questi artisti perché una caratteristica che ho visto è che sono molto multiculturali non sono solo irlandesi è una cosa che è nata così perché l'hai trovati oppure è una tua scelta di fare un evento così multiculturale molti sfaccettato con vari approcci varie origini è una mia scelta e penso che sia dovuto anche al fatto che io come persona sono ho diversi background dietro colombiana italiana abbiamo detto per come mi piace mi piace che ci siano diverse culture anche perché comunque viviamo in una società molto multiculturale per cui bisognerebbe enfatizzare questa cosa e spingere soprattutto con tutti i movimenti che ci sono spingere verso un rispetto alle altre culture anche perché anche le altre culture ci possono dare tanti spunti e tanti punti di riflessione no? siamo cittadini di questo di questo mondo quindi dovremmo comunque riuscire a convivere e a rispettare le diverse culture per quello che gli artisti sì sì che siano irlandesi però in Irlanda non ci sono solo gli irlandesi ci sono gli italiani ci sono gli spagnoli ci sono gli argentini i brasiliani e quindi attraverso gli eventi della manzarda si vuole anche sottolineare questa cosa no? cioè non non rimanere soltanto nel tuo piccolo giardino però il tuo vicino di casa viene da un altro posto per cui porgi l'altra guancia invitano per un caffè insomma per cui l'obiettivo è rimanere molto su quest'onda e soprattutto e poi comunque c'è anche la parte umanitaria no? come ti dicevo prima era con People in Cooperation che le cambia ogni anno il sì sì cambia ogni anno perché secondo me ci sono diverse organizzazioni che possono beneficiare di una finestra dove le persone si rendano conto di quello che effettivamente succede al di fuori dei nostri confini no? e di quanto quanto importante sia il sapersi dare senza pensare troppo ad un prendere perché alla fine queste NGO cioè sono persone molti volontari persone che magari sì vengono pure pagate però per quello che fanno effettivamente è una cosa che non c'è una ricompensa a livello di denaro tu lo fai alla fine di lucro questo evento cioè questi eventi no cioè le charity prendono parte del guadagno sì come funziona sì praticamente come dai un contributo a queste charity collegate gli eventi sono ticket based cioè c'è un biglietto e la la parte finale cioè l'amount finale dei biglietti viene equalmente diviso per i due per i due goal del progetto le arti e i progetti umanitari quindi le arti nel senso che poi questo quantitativo viene diviso per gli artisti che suonano o comunque fanno performance perché è giusto che comunque vengano compensati per il lavoro che fanno o per il tempo che ci impiegano per la creatività e l'altra metà va all'organizzazione che supporto e diciamo che io nell'organizzare non prendo niente è proprio una cosa che faccio di tasca mia ma non cerco neanche perché per fortuna c'è un lavoro c'è uno stipendio non lo faccio per le mie tasche non vorresti fare in futuro magari come lavoro fisso dando opportunità ad artisti a charity di avere risorse però avendo un contributo lo escludi questo lo vedi come possibilità per il futuro lo vedo come una possibilità vorrei non nego che vorrei portare la mansarda a un livello un po' più alto e lavorarci full time si lavorarci full time però la mia paura è che se poi ci lavoro full time casco forse in quel in quel in quel meccanismo dove dico ok io devo guadagnarci qualcosa per cui al momento non so come gestire non voglio cascare in questa cosa però mi rendo conto che non è sostenibile se si cresce tanto bisogna dedicarci del tempo però pensate genitori del sud lavoro fisso più infermiera ti metti a fare l'artista l'event manager sì l'event manager sì però lavoro più complicato più precario non lo so penso che comunque è una cosa nuova la porto avanti soltanto da due anni questo è il terzo anno penso testando il terreno sì dovrei dovrei probabilmente registrarla prima di tutto come un'organizzazione non profit proprio a livello legale cosa che ancora non ho fatto un po' perché non so esattamente dove orientarmi e un po' perché non ne ho avuto il tempo e immagino che poi nel momento in cui la registri come organizzazione non profit ci siano poi determinati benefici se vuoi applicare a dei bandi per dei fondi e forse in quel modo non ci metterei i soldi da scamia insomma è un mondo complicato è un mondo complicato però con le istituzioni io ci sto provando da anni combatto è complicato però insomma sono possibilità sì andrebbe fatto probabilmente perché mi rendo perfettamente conto che non è sostenibile semplicemente con il mio salario riuscire a portare quello avanti e ovviamente portare la mia vita avanti ma comunque in ricordo stai facendo tanti progetti continuo a farli ma in scadenza io sono interessato oltre a quelli che sono sul palco chi è che partecipa perché mi sembra che il pubblico sia molto interculturale multiculturale lo stesso hai creato una comunità molti tornano ho visto vedo le foto c'è una ragazza spagnola che vedo sempre ogni evento hai creato una piccola comunità delle che piace tornano anche comprensioni diverse quello che mi sento spesso dire è che queste cose non le vediamo spesso a Dublino e penso perché prima di tutto c'è sempre la sorpresa dove è l'evento l'anno scorso quando l'ho fatto in un hair salon ma come in una ragazza di parecchiera ma non esiste questa cosa a Dublino quindi penso che la comunità che segue la manzarda è comunque una comunità che cerca qualcosa di diverso dalla solita serata del pub ma non hai paura che spaventi un po' troppo soprattutto gli irlandesi tradizionali una cosa così hardcore invece che è hardcore molti irlandesi sono molto tradizionali non tutti chiaramente però alcuni esci un po' fuori dall'ortodosso quello che è sempre fatto a volte io l'ho scoperto facendo hiking coordinavo un gruppo di hiking qua in Irlanda a volte andavo facevo gli hiking di notte abbracciavo gli alberi facevo camminate legate c'è qualcosa di esperienziale il team dell'hiking group c'erano 80% irlandesi 20% non irlandesi ai miei hiking molto particolari erano solo non irlandesi erano un po' spaventati da un approccio un po' non tradizionale dell'hiking non so per te lo stesso oppure forse no era mia esperienza e basta no no effettivamente non nego che all'inizio è stata un po' dura creare una realtà che fosse diversa da quella classica però è anche vero che nella nello spirito di tenersi multiculturale non sono solo irlandesi che vengono per cui brasiliani spagnoli diciamo che sono più propensi forse per questo tipo di realtà per cui non mi sono tanto preoccupata del fatto oh ma forse per gli irlandesi questa cosa non va bene col tempo penso che tutti possono apprezzare vabbè è una vanguardia è una visione un po' ma no sono un'avanguardia che aprono nuovi orizzonti perché chiaramente uno che viene qua da un altro paese deve di forza un'opportunità mentale diversa uno che non parte dall'Italia o dal Messico o dal Rosile perché comunque si mette in gioco quindi magari è interessato a cose più diverse più particolari penso sia normale sì 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 in molti aspetti molto tradizionali a volte non è semplicissimo fare cose di rottura secondo me però un evento internazionale multiculture sicuramente facilita questo il colgimento e la creazione pian piano è come fosse un virus che contagia in senso buono vedi guarda che si può fare una cosa diversa la gente oh perché mi sembra che si può fare anche un concerto da parrucchieri sì l'anno scorso l'ho fatto e mi è piaciuto tantissimo ma cosa si fa scusa ma era grande era un grosso salone non era enorme era un salone nella zona di example bar ho conosciuto una delle ragazze che lavorava dentro e poi comunque parlo sempre di questa cosa della mansarda e del fatto che mi piacerebbe portarle in realtà alternative io stavo cercando una lavanderia secondo me ci sta la lavanderia ho avuto tutti no secondo me dovrò spegnere le lavatrici e perdono soldi no mi piaceva perché volevo fare tipo una serata anche di donazione di vestiti portate i vestiti in una lavanderia e questi vestiti poi saranno donati l'anno scorso era all'unicef quindi questi vestiti poi saranno donati all'unicef che saranno spediti però ho girato una foto di lavanderia e non ho trovato una che mi dicesse di sì c'è una tovella con il tuo riso con il tuo limone c'è la mansarda sì che poi ti guardano tutti i mani e lo sai c'è cosa? vuoi fare un evento qui ma questa è una lavanderia e quindi è un posto per la comunità giusto? quindi i posti più strani quelli hai fatto salone l'hai fatto in caffè l'hai fatto libreria record studio l'hai fatto l'hai fatto interessante pub dietro il pub Colberson è l'unico pub nel quale vado perché è veramente sempre eventi di chiusura per l'anno l'ho fatto l'anno scorso come evento di chiusura per l'anno e l'anno prima uguale perché il Colberson è molto pro community molto pro community se noi abbiamo partecipato alla campagna protesta per terra perché la volevano e si è vinto tra l'altro ora siamo come a Dublino stiamo sostenendo la campagna per non modificare troppo il San Stephen Green shopping center per non togliere la placata ecco questa è un'altra cosa tristissima che tra l'altro è bellissima è bellissima non è originale è fatta nel 1980 è tipica è una testa in turistica è piacevole è bello vogliono mettere questa cosa rettangolare che non ha neanche grandissimo c'è un momento uffici che verrebbero vuoti secondo me molti sì l'altro stiamo registrando qualche giorno prima di quando avremo messo in onda a febbraio si è fatta una manifestazione vediamo un po' come andrà la protesta e queste proteste tra l'altro ci sono moltissimi non irlandesi che partecipano che è una cosa positiva comunque perché molti non irlandesi che vivono qua si sentono parte della comunità e cercano di dare un contributo sia partecipando ai tuoi eventi o a proteste o ad altro siamo quasi in conclusione dimmi una cosa che ti piace di Dublino e una cosa che invece non ti piace per niente wow questo è difficile ti do 5 secondi per pensare tanto qua i tempi sono molto più dilatati una cosa che mi piace di Dublino mi piace che le persone abbiano sempre un sorriso quando ti rivolgono la parola forse perché ripeto in Inghilterra non è sempre così comunque avevo perso questo tipo di contatto però mi piace che le persone siano sempre pronte a sorriderti a parlarti e questa è una cosa che mi piace tanto e cosa non mi piace è dura non c'è nulla proprio dire non mi piace una cosa piccola pure forse la pizza non è ancora la mia preferita qua vabbè sento qua per la pizza no 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 ma ti dirò io sono qua da 15 anni sono arrivato qua non c'era il pane non c'erano i cappuccini dai non c'erano i benefici non c'erano il pane c'erano solo il pane in cassetta il pane carré non c'erano il cappuccino il caffè non lo speriamo fare c'erano solo l'americano e non c'erano la pizza ora secondo me almeno 4-5 posti Dublino pizza decente ci sono ok spero che migliori ancora di più nel futuro non disperiamo le dita c'erano anche la tua buona pizza da campana insomma ti mancherà tu sei qua come vedi un po' il tuo futuro pensi di stare ancora qua per un po' e che tipo di italiana oddio colombiana italiana sei sai io quando facevo la radio con il programma settimanale dicavo sempre tu sei un Marco Polo o un Conto di Monte Cristo sono in Marco Polo sono italiani che vanno all'estero fanno il giro vanno per la via della seta però sanno già che torneranno in Italia e moriranno e vivranno in Italia e poi sono in Conto di Monte Cristo che vanno per l'isoletta deserta abbandonata e non torneranno più in Italia muoiono all'estero e odiano la patria matrigna che non li ha accolti che non li ha offerto l'opportunità tu sei più Marco Polo o Conto di Monte Cristo cosa pensi di fare poi da tua vita qua in Dublino se progetti non credo che resterò a Dublino più che altro perché sebbene mi trovi molto bene sia a livello lavorativo mi sono creata il mio cerchio di amicizie ho questo progetto stupendo che vorrei sviluppare meglio mi rendo conto che vorrei una realtà un po' più dinamica secondo così puoi dire non lo so vorrei un qualcosa penso di essere satura al momento vorrei una cosa un'esperienza nuova un qualcosa che mi dia di nuovo la freschezza su tante cose ma in Italia non lo so al momento ti dico non penso di tornare in Italia però allo stesso tempo mi rendo conto che vorrei vivere in posti come Bologna ho vissuto tra Ferrala e Bologna comunque sono molto vicini andavo spesso a Bologna e Bologna è una realtà che mi piace tanto un ospedale molto grande che ogni tanto cerca infermieri però vorrei vivere ancora un po' l'Europa per cui penso che vorrei spostarmi in un'altra realtà magari più artistica più multiculturale non lo so sento il bisogno di cercare qualcosa di diverso che è ancora ben definito motivo per il quale non so esattamente dove però sì non penso di stare qui tanto anche perché ti ripeto Dublino bellissima ma non è un posto che avrei scelto di vivere se non fosse stato per il mio ex ti hai incastrato ma hai incastrato poi lascio stare che la casa è bellissima però non è proprio mia sì sì certo ma sì make sense come si make sense quindi non penso che nessuno degli italiani tranne quelli che sono da generazioni qua penso che stare qua per sempre molti siamo tutti più o meno dei turisti temporani che stanno qua un tot di tempo io sto benissimo per ora però insomma non ci vedo in pensione Dublino ecco ecco siamo tutti più in questa barca c'è la regia che mi fa dei segnaci o sceni abbiamo finito il tempo prima di chiudere progetti per la mansarda breve ti ricordo che questo pod andrà in onda a marzo e soprattutto voglio chiederti ma è vero questa storia che tu fai il tre mesù per tutti ogni evento lo farei ancora questa cosa sì purtroppo sì dico purtroppo però mi fa piacere farlo perché l'ho fatto alla prima serata a casa mia e a tutti è piaciuto ho detto sì adesso lo faccio di nuovo ed è diventata la firma della mansarda quindi porterò avanti questa cosa del tiramisù e sono contenta di farlo alla fine come farlo per degli amici i progetti futuri per la mansarda diciamo che quest'anno la mansarda va un po' in tour per l'Europa un pochino e ci allarghiamo ovviamente non 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 riesco a fare questa cosa grazie all'aiuto di chi crede in questo progetto ovviamente e la mansarda sbarca a Valencia ad aprile e sbarca a Bologna a maggio sbarca a Londra a giugno e poi concluderà diciamo la sua prima parte dell'anno con il festival allo Smokali Theater a Dublino il 23 di luglio se ricordo la data poi rimetteremo il sito e poi sì ecco nota il podcast quindi i progetti sono questi riuscire a creare una comunità per quanto più possibile europea perché penso che ci sia il bisogno di sentirsi europei più che altro non semplicemente cittadini italiani o cittadini irlandesi viviamo una comunità europea per cui abbracciamola abbiamo tanta 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 cultura in Europa che ci invidiano tantissimo gli australiani e tutti per cui questi sono i progetti al momento good luck chi vuole riformazione la mansarda trova il sito web con i progetti i social media ovunque ci sono degli aggiornamenti grazie ha fatto da cavia in realtà da oggi spero tra l'altro abbiamo il backup dell'audio sia sopra che sotto sono questi affarini quindi spero che almeno come avere le bretelle la cintura che ci si veda dalle nostre telecamere di fronte a noi e grazie ancora e bocca al lupo grazie a te io alla prossima verrò giuro non ti preoccupare a dicembre avremo un altro concerto non ti preoccupare voglio provare il tuo tiramisù assolutamente grazie per l'invito e noi ci vediamo o ci sentiamo la prossima volta con questi rumori e sceni che mi diceva i bracciali senza i bracciali di Ligia probabilmente il prossimo ospite è una vara bracciali alla prossima ciao